I carabinieri del comando provinciale di Napoli questa mattina alle prime luci dell'alba hanno dato esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal giudice per le indagini preliminari di Torre Annunziata su richiesta della procura nei confronti di sette indagati ritenuti responsabili di detenzione e spaccio di cocaina, crack e marijuana. Le indagini svolte da parte dei militari della compagnia Oplontina e coordinate dalla procura di Torre Annunziata hanno permesso di monitorare circa 500 episodi avvenuti in meno di due mesi nella città e in altri comuni dell'area vesoviana. Un intervento che si colloca nel piano per combattere i fenomeni di criminalità sempre più evidenti nel comune Oplontino.